Cari concittadini, buonasera. Come sapete è stato prorogato l'ordine di non poter uscire dalla propria regione dove si abita, tranne che per i motivi di lavoro, di estrema necessità o sanitari, fino al 25 febbraio. Questo ci dà la misura di come il problema Covid è ancora presente ed è ancora pressante per tutti quanti noi. Anche a San Giorgio devo dire che questa è stata una settimana difficile perché abbiamo avuto in un sol fine settimana ben 72 persone positive. Per darvi l'idea, in una settimana, la settimana scorsa, abbiamo avuto 96 nuovi positivi. Quindi una corsa nel fine settimana, già era successo la settimana scorsa, ma questa volta ancora di più, del numero di positivi. Ovviamente noi passiamo però da 194 a 232 positivi perché ai quelli che sono i nuovi positivi sottraiamo le persone che per fortuna sono diventate negative. Ovviamente questo significa che dobbiamo aumentare la nostra responsabilità, aumentarla in tutti i momenti della nostra vita, nel nostro quotidiano. Anche perché come sapete è il tema più dibattuto in questo periodo, scuola aperta sì, scuola aperta no, DAD sì, DAD no. Premettendo, ma per spiegare a qualche cittadino che me lo chiede ogni volta che la DAD non è una decisione delle pubbliche amministrazioni, non è una decisione dei sindaci, ma nel caso una volontà da parte del Ministero che ha negato questa possibilità alternativa alla presenza, ma che può essere attivata soltanto nei momenti in cui i ragazzi sono positivi, in quarantena o nel caso in cui le scuole siano chiuse. Però se noi andiamo a vedere i dati sulla base dei quali noi ci dobbiamo muovere, vediamo che il picco di nuovi positivi lo abbiamo nella fascia di età di 36 e 49 anni. Bene, io vi faccio vedere velocemente, ma poi cercherò poi di pubblicarlo anche sul sito del Comune. Questo è il picco dei nostri positivi, o meglio per fasce d'età. Vedete da destra a sinistra, da 0 a 5 anni, da 5 a 10 anni, mi sembra da 11 a 14, ora non li ricordo tutte le fasce d'età nei singoli casi. Però parliamo di positivi che sono passati, ad esempio i ragazzi da 0 a 5 anni erano la settimana scorsa 5, questa settimana 2. Da 6 a 10 anni, da 10 sono passati a 4. L'unico picco che abbiamo è da 14 a 18 anni che passano da 2 positivi a 6 positivi. Però parliamo ragazzi non in età scolare, nel senso che non andavano a scuola, perché se noi andiamo invece a vedere la positività nelle scuole, questa settimana abbiamo avuto due classi in quarantena. Ricordatevi che però questo non significa la non volontà di chiudere laddove ce n'è la necessità. Nonostante il TAR che ci ha spiegato che non possiamo chiudere in maniera generalizzata, io ho già chiuso un plesso che tra l'altro riaprirà mercoledì, che è quello della Regina dei Gigli. Mentre gli altri plessi non hanno avuto quella problematica da poter autorizzare una chiusura. Vi ricordo, giusto per correttezza, come ho già fatto nei vari interventi della settimana scorsa, per le scuole elementari abbiamo una classe in isolamento alla Noschese che ha prodotto altri positivi, ma che erano in quarantena, quindi non ha prodotto nuove chiusure di classi. Tre classi al Don Milani che però erano indice di due positivi, uno era una docente, uno era un alunno, ora penso che ritorneranno in classe in questi giorni perché per fortuna sono usciti i tamponi, almeno stamattina erano tutti negativi e mi auguro che anche gli ultimi siano negativi per quei ragazzi ovviamente. Le altre due classi, uno sta al Troisi e l'altro sta al Formisano, quindi eventi singoli che succede che sono avvenuti in alcuni plessi e che non destano grande preoccupazione rispetto al clima generale. Per le scuole medie abbiamo una classe alla Dorso, una classe alla Marconi, una classe alla Stanziale e per le superiori solo una classe a Rocco Scotellaro, quindi i sei positivi da 14 a 18 anni ovviamente non rientrano in quello che è il periodo scolare o quantomeno non in istituti scolastici del nostro territorio. Questo per dire cosa? Che vi è bisogno in questi giorni, in questi periodi e specialmente domani che è carnevale, di una grande responsabilità da parte di tutti quanti noi. Il virus esiste, il virus continua a circolare anche sul nostro territorio e va combattuto con la responsabilità, l'unica arma che abbiamo. L'idea che le scuole possano produrre il più grande contagio è da questi dati totalmente, almeno in questa fase ovviamente, sconfessato. Se vediamo il picco della gaussiana, quindi di questo grafico che vi ho fatto vedere, la parte relativa ai minori, a coloro che frequentano le scuole, è diminuita rispetto alla settimana scorsa, ma è aumentata in quelle che sono gli adulti e tra l'altro continua a mantenersi alta. Anche se lo rapportiamo rispetto al numero di abitanti di quella fascia di età, continua a essere molto più elevato il contagio tra i maggiori. Quindi quello che vi voglio chiedere, specialmente agli adolescenti, ai giovani, a coloro che frequentano zone aperte nella nostra città, è di cercare di avere la massima responsabilità in queste ore, in questi giorni. Domani è carnavale, sarebbe un giorno gioioso per tutti, di divertimento per i bambini, si sarebbero portati i bambini nei parchi. Purtroppo l'ordinanza regionale era chiara di dover chiudere e probabilmente a questo punto anche condivisibile i luoghi di incontro fino al giorno di carnevale e evitiamo che però noi sindaci dovremo in futuro scegliere ordinanze diverse da quelle che fino ad oggi abbiamo applicato in questi mesi. Ci siamo scordati per fortuna i momenti più difficili e le ordinanze restrittive che abbiamo dovuto ratificare in tempi brevi e quindi vi chiedo a tutti quanti voi una grande responsabilità per scongiurare il ritorno di ordinanze delle quali speriamo dovremmo ricordarci soltanto nei giorni più bui della nostra città ma non sul nostro futuro. Quindi vi ringrazio per la responsabilità avuta a fine oggi, continuiamo ad averla. Molti mi dicono i controlli, io ho chiesto maggiori controlli alle forze dell'ordine, nella Polizia Municipale abbiamo avuto in questi giorni delle mancanze dovute a momenti di difficoltà del corpo legate anche a malattie dei nostri agenti di Polizia Municipale e torneranno presto a dare la loro grande mano alla nostra comunità ma la responsabilità è basilare.